Più di un giorno che la Guardia di Finanza e il reparto aeronavale aveva avvistato la barca a vela lunga 16 metri che stava per entrare in acque territoriali italiane. Sono stati intercettati a poche miglia da Roccella Ionica, imbarcazione con a bordo 88 migranti. Il salvataggio è stato portato a termine dagli uomini della Guardia Costiera di Roccella Ionica, diretti al talente di Vascello, Tommaso D'Arpino, tramite la motovedetta, la CP 326. Gli immigrati hanno viaggiato per più di cinque giorni con condizioni del mare non sempre favorevoli, ma fortunatamente il viaggio non è stato complicato. Tra gli 88 la maggior parte sono minori e provengono tutti da un porto turco. Tra di loro sono stati identificati due uomini di nazionalità ucraina, probabilmente si tratta degli scafisti, ma saranno le indagini condotte dalla Guardia di Finanza a capire meglio se i due cittadini ucraini erano alla guida della barca a vela. Intanto sono stati trasbordati al porto delle Grazie e fatti alloggiare nella tensostruttura della Croce Rossa italiana, anche se le difficoltà non mancano. I bagni devono essere igienizzati e gli stessi locali che purtroppo non si è fatto in tempo a ripulire dopo l'ultimo sbarco. E poi solamente 66 brandine necessitavano 88, ma la situazione è più complicata dal fatto che manca l'acqua e dunque per i migranti non è possibile davarsi dopo circa 5 giorni di viaggio. Sono queste le criticità su cui dovrebbero intervenire immediatamente il comune di Rocella Ionica e in particolar modo poi la prefettura di Reggio Calabria. Questa mattina sono stati identificati tramite il lavoro degli uomini del commissariato di polizia di Silerno e poi successivamente tamponati. Nelle prossime ore saranno trasferite nei centri di prima accoglienza.